Benvenuti nel nuovo motore di ricerca. Audio guidato. Con mappa interattiva. Dedicato alla città di Napoli. Andiamo a conoscere Napoli Vive. La prima pagina di Napoli Vive. Qui sceglieremo tra due categorie. Alla nostra sinistra la categoria riguardante la Movida e la gastronomia napoletana. Alla nostra destra il calendario degli eventi. Calendario che vedremo più avanti. Scegliamo la zona che ci interessa. Abbiamo suddiviso la nostra mappa interattiva in nove zone. Scegliamo per esempio la zona Vomero. Clicchiamo. E vediamo cosa succede. Scelta la zona entreremo nella mappa interattiva. In questo caso. Sezione Vomero. In alto a sinistra, il motore di ricerca. Basta inserire qui. Se non avete le idee chiare di cosa esattamente cercate. E il sistema darà le risposte più attinenti alla domanda. Qui, invece, troviamo le categorie della sezione. Ristoranti. Discoteche. Pub e birrarie. Cucina straniera. Prendiamo in considerazione adesso la funzione, cerca. Consideriamo di voler trovare una steakhouse oppure una rosteria. Nel nostro esempio nella voce birrarie. Abbiamo trovato un risultato utile alla nostra ricerca. Passando il cursore sul risultato, abbiamo subito delle informazioni generali del locale. Cliccando. La mappa interattiva si mette in moto alla ricerca dell'attività. Eccola. In basso a destra possiamo allargare o restringere la visuale della mappa. A sinistra. Tramite il navigatore. Possiamo spostarci in tutte le direzioni. Tornando sul cursore lampeggiante della nostra attività. Clicchiamo. Ecco il locale. In formato video e audio guidato. Benvenuti al Victoriaeplatz, mitica steakhouse, birraria, pub, nel cuore del vomero. Vedrete e saprete tutto del locale. Dal menu ai posti a sedere. Giorno di chiusura. Possibilità di prenotare. Contatti. E tanto, tanto di più. Il gusto è garantito, grazie alle nostre specialità a base di carne. Informazioni e visione dei locali. Di cosa offrono e delle specialità. Nella sezione centrale possiamo scegliere già tra le varie categorie. Andiamo a vedere. consideriamo. consideriamo l'ipotesi di voler trovare una trattoria. Napoli vive è un sistema di navigazione assolutamente innovativo. Essendo partner di Google lo troverete nella prima pagina dello stesso Google. Sempre. Il nostro motore di ricerca troverà la massima reperibilità su internet e il massimo consenso dei navigatori. Essendo oltretutto. Facile da navigare. Grazie a programmatori e tecnici di grande esperienza. Il team Napoli vive. Garantisce visibilità e attrazione alle attività. La sezione eventi. La pagina degli eventi è un vero e proprio calendario. Basta andare sulla data e cliccare. Scegliere l'evento. Leggere le informazioni. Ogni evento è collegato ad un sito internet. Oppure un trailer. O ad una recensione di Napoli vive. Fate in modo che internet sia un luogo dove far conoscere e promuovere la propria attività. Arrivederci.